segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te molto contenta di ritrovare la professoressa elsa fornero bentornata professoressa come sta abbastanza bene grazie spero anche voi anche noi anche noi ce la caviamo e io posso dire lo dico subito così ci togliamo il pensiero grazie davvero perché noi abbiamo chiesto alla professoressa fornero di spiegarci a che punto siamo no è autunno si avvicina la manovra sentiamo dire che mancano dei soldi abbiamo sentito la preoccupazione del ministro giorgetti e allora approfittiamo della competenza della professoressa fornero e lei gentilmente ci ha detto di sì e proviamo a capire qual è lo stato dell'arte tra l'altro siamo ad un anno di governo me lo dice diciamo preventivamente professoressa quest'anno ci arriviamo meglio ci arriviamo peggio all'autunno complessivamente ci arriviamo un po peggio e questo genera molte preoccupazioni anche della parte più responsabile del governo che magari non è maggioritaria posso dire tiziana che tutto è un po artigianale perché i tempi sono stati stretti ma siccome adesso si comincia in maniera devo dire abbastanza forse nata a parlare di legge di bilancio io vorrei cominciare col dire qualcosa che non è non è non sono numeri e non è strettamente economico della legge di bilancio e allora se dovessi veramente sintetizzare per per il pubblico che ci ascolta che cos'è questa legge di bilancio vorrei dire che è la somma di tutti i bisogni delle aspettative delle speranze dei cittadini italiani ma è al tempo stesso croce e delizia dei governi di ogni governo ed è croce quando ci sono poche risorse ai poco da distribuire e invece se le cose vanno bene puoi distribuire è una forma di politica molto popolare che piace ed è questa legge di bilancio ma tutte le leggi di bilancio sono l'oggetto di attenta osservazione da parte di quelli che ci prestano i soldi da parte delle istituzioni internazionali che sono lì a vigilare se noi osserviamo delle regole dei trattati che noi stessi abbiamo sottoscritto che non ci sono stati imposti quindi è una legge molto importante che tocca la vita di tutti noi nel prossimo anno allora vediamo i numeri tanto per darne alcuni i numeri dell'anno scorso questa è la legge di bilancio 2003 una legge che è stata definita draghiana perché draghiana perché si è detto beh sono appena arrivati al governo non possono cambiare interamente l'articolazione del bilancio pubblico spendere in meno per questo molto in più per quell'altro ridurre la tassazione e quindi l'impostazione era grosso modo obbligata cioè in qualche modo il sentiero era già tracciato ed era il sentiero tracciato da draghi dunque legge draghiana la rotta era tracciata sì signore ma cos'è il bilancio pubblico beh è fatto di entrate e di uscite ed è la differenza che è importante osservare allora le entrate sono quello che in generale non piace ai cittadini sono entrate pubbliche ma sono uscite dalle tasche dei cittadini consumatori imprese risparmiatori quindi sono imposte le tasse i contributi sociali tutto ciò che noi paghiamo per avere cosa per avere in cambio quello che si chiama la spesa pubblica ora qui bisogna essere attenti perché la spesa pubblica poi guardiamo i numeri è fatta di beni e servizi e trasferimenti che lo stato dà ai cittadini pensiamo alla scuola cioè le strade gli ospedali i servizi dell'educazione gli ospedali la sicurezza la giustizia tutte questi sono servizi che lo stato dà ai cittadini e che sono finanziati con queste imposte e queste tasse poi ci sono i cosiddetti trasferimenti che non sono bene i servizi sono per esempio le pensioni sono tutti i bonus che vengono dati sono qualche cosa che lo stato dice beh vedo qualcuno in difficoltà e che ogni volta professoressa mi perdoni se la interrompo però ogni volta noi sentiamo dire che diciamo in campagna elettorale sentiamo dire che i bonus non fanno bene alla salute della dello stato e che invece le misure che hanno una prospettiva che guardano lontano sono più importanti e poi però tutti quelli che l'hanno detto prima quando governano non riescono a togliere a mettere mano ai bonus se non raramente no parlo soprattutto dei piccoli piccolissimi bonus che sono tantissimi perché i bonus creano come dire assofazione se tu hai avuto un bonus supponiamo adesso si parla del bonus benzina del bonus energia se tu l'hai avuto e ti viene tolto tu stai peggio di prima e questa è una cosa che ovviamente fa soffrire le persone le rende anche un po' arrabbiate allora poi abbiamo un'altra grande voce di spesa e questa sì che è veramente un'eredità del passato che sono gli interessi e gli interessi sono grandi o piccoli a seconda di due elementi di quanto grande è il debito e il nostro debito è una montagna che ci sovrasta e di quanto è alto l'interesse il tasso di interesse che paghiamo su quel debito adesso noi abbiamo ho detto prima una montagna di debito e al tempo stesso viviamo in un periodo in cui i tassi di interesse aumentano e aumentano voi l'avete detto molte volte perché c'è un aumento dei prezzi e quindi la banca centrale che vuole cercare di ridurre l'inflazione ha soltanto lo strumento di aumentare tasso e interesse ma questi sono spese che non vanno né alla scuola né agli ospedali né alle pensioni sono spese che vanno a servire il debito pubblico che noi abbiamo e poi ci sono una categoria un po' più benemerita se vogliamo gli investimenti faccio solo l'esempio del territorio il nostro territorio che è così soggetto ad alluvioni a frane così delicato ha bisogno di investimenti ha bisogno che si facciano opere strutturali quelle non servono a noi nell'immediato ma sono qualcosa che lasciamo alle generazioni future e andrebbero molto incrementati però qui le dico che i politici hanno un po' la preferenza per questa spesa corrente perché lì si guadagna popolarità e voto questa qui è meno garantisce meno consenso perché è uno sguardo troppo lungo diciamo il risultato arriva alla distanza allora le cifre sono guardi le cifre sono queste l'anno scorso era stabilito un po' arrotondate 672 di entrata e 634 di spesa corrente ma 81 di interessi e 157 di spesa per investimenti in soldoni dovevamo finanziare sul mercato 200 miliardi questi 200 miliardi sono soldi che bisogna chiedere in prestito a qualcuno e questa è una nota importante perché se tu sei affidabile e vai a chiedere soldi in prestito i soldi te li danno i risparmiatori i fondi te li danno prima dicevate 5 mila euro per una persona arrivata in italia che si compra la condizione di rifugiato provi ad andare in banca uno di questi a chiedere e non glieli danno i soldi quindi quella veramente se è così è una misura assolutamente devo dire che fa male allora noi abbiamo bisogno di credito perché abbiamo tanto debito ogni anno da rinnovare e quest'anno ne avevamo circa 300 miliardi e ogni anno aumentiamo un po' il debito quindi è un po' problematico allora su questo che deve portare al momento attuale perché ahimè diciamo nel frattempo i minuti passano siamo qua siamo qua siamo la manovra che sono i mal di pancia di meloni e draghi la manovra vuol dire noi lasciamo tutto com'era se lasciamo tutto com'era siamo più draghiani di draghi allora qui c'è il grande scontro tra le promesse fatte e invece le possibilità perché l'abbiamo visto prima in quel bilancio se tu vuoi ridurre la tassazione cosa che i cittadini possono anche volere e amare ma vuol dire che hai meno entrate ma se riduci la tassazione come finanzi una spesa che magari vuoi aumentare perché vuoi per esempio abolire la fornero oppure perché vuoi compensare l'inflazione almeno sui redditi più bassi allora questo vuol dire che la spesa ti aumenta e le entrate ti riducono e allora tu devi indebitarti di nuovo andiamo sull'aumento del debito ma se non vuoi indebitarti o dici la verità ai tuoi elettori e dici guardate che non c'è spazio per tutto e magari giochi sul fatto che hai un orizzonte e certo e ancora quattro anni e quindi le manovre successive saranno più generose per gli elettori però le chiedo professoressa fornero mi perdoni se la interrompo allora posto che io la terrei tutto il tempo lì a farci la sua lezione starei muta ahimè il tempo è sostanzialmente finito e io ho almeno un paio di curiosità guardo quest'ultimo diciamo ragionamento che stiamo facendo l'ultimo foglio e chiedo però all'operatore che segue Elsa fornero di spostarsi a destra così lo vediamo per intero anche a casa 14 15 miliardi di maggiori interessi sono quei soldi che dice il ministro giorgetti non ci ritroviamo più capisco bene quindi dice un'assoluta verità il ministro giorgetti abbiamo dei soldi quelli vanno e sì perché c'è beh abbiamo dei soldi che sono destinati per effetto di fatti che non dipendono da noi tassi di interesse che aumentano abbiamo dei soldi che vanno destinati alla voce interessi invece di destinarli per esempio alla voce aumento delle pensioni minime e quindi a giorgetti mancano 14 15 miliardi e lui si mette le mani nei capelli anche se forse questo era prevedibile perché la politica monetaria della banca centrale che va contro l'inflazione si si può anche magari criticare però è dovuta perché l'inflazione è un grande male allora però la domanda che le faccio io è la seguente la domanda che le faccio io è questa giorgetti ci ha detto due cose ha detto che gli mancano dei soldi e ha detto anche che è preoccupato dei mercati ora la preoccupazione dei mercati a che vedere con i soldi che mancano a che vedere con il fatto che giorgetti teme che alla fine i dubbi di giorgia portino a sostenere comunque delle spese che non ci potremmo permettere e che in qualche modo poi i mercati reagirebbero a quelle spese le chiedo ecco sicuramente contano le due cose perché se la meloni se la presidente meloni impostasse una politica di bilancio che i mercati considerano poco responsabile quelli ti punerebbero subito potremmo arrivare subito una grossa differenza tra il tasso di interesse che dobbiamo pagare noi e quello che pagano gli altri paesi sicuri come la germania quindi lo spread è la famosa parola che vogliamo dimenticare il fangerato spread salirebbe e a giorgetti verrebbero a mancare ancora più soldi quindi fregarsene dei mercati giorgia meloni non può non rimane che una strada quella di dire la verità ai cittadini e di tenere a bada alcuni dei suoi ministri più intemperanti allora intanto grazie davvero professoressa fornero per averci spiegato come stanno le cose è prezioso secondo me per chi ci segue da casa grazie a voi voglio dirvi a casa che ha